Gli iniziali poteri che furono di coscientemente ingannare attraverso codici, sistemi ed altre impermanenti falsità impreventati in costituzioni, resi esecutivi, gestiti da statuti, atti, trattati ed altre oscenità, al fine di controllare e dirigere costumi sociali con giudizi e decreti le merci di questa unità vedere o non vedere, ricordare o non ricordare la scelta consapevole della nostra libera volontà tutti i componenti del popolo di questo pianeta valore assoluto, con conseguente dimora dei modi di prosperità, ognuno è responsabile del quando attraverso il nostro fare, essendo che tutti stiamo aspettando essere, non essere, fare o non fare, non raccordati domani consapevolmente qui, davanti a voi ora che il legalese non è legittimo né legale la legge dell'uno è uguale all'ore del creatore l'uno assoluto e senza primordiale punto zero incarnato, ovunque sia creato leggi computabili e computabili attraverso gli strumenti che noi sono non tecnologi conti con correnti del popolo di questo pianeta valore assoluto, con conseguente dimora dei fondi di prosperità, ognuno è responsabile del quando attraverso il nostro fare, essendo che tutti stiamo aspettando punto zero bravi, bravi bravissimi bravissimi